Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Alfonso Signorini ha espresso un profondo disappunto nei confronti dei partecipanti dell'attuale edizione del Grande Fratello. La situazione si è aggravata a seguito di un evento tragico, Beatrice Luzzi, una delle concorrenti, ha dovuto lasciare improvvisamente il programma a causa della morte del padre. La partenza di Beatrice ha scatenato un'ondata di solidarietà online, ma all'interno della casa la reazione è stata sorprendentemente diversa. Mentre un gruppo di concorrenti, tra cui Fiordaliso, Vittorio, Sergio, Rosi, Monia, Greta e Federico, hanno scelto di ritirarsi in giardino in segno di rispetto, altri hanno mostrato una mancanza di empatia sconcertante. Le telecamere hanno catturato momenti in cui Perla, Letizia e Paolo discutevano banalmente di attività quotidiane e vestiario, mentre Anita si lamentava per la mancanza dell'aperitivo abituale, suggerendo di guardare un film per evitare la noia. Questi comportamenti insensibili hanno suscitato non solo lo sgomento del pubblico, ma anche la dura reazione di signorini. Il presentatore ha esternato il suo sdegno attraverso un post su Instagram, condannando la mancanza di empatia dei concorrenti, e lasciando intendere un possibile rimprovero nella prossima puntata del programma. L'episodio ha riacceso le discussioni tra i fan del Grande Fratello, con molti che rimpiangono il cast dell'edizione precedente, nonostante fosse stato criticato dallo stesso signorini. Ora tutti sono in attesa della prossima puntata, per assistere all'evolversi della situazione tra il conduttore e i concorrenti. Che ne pensate? Ha fatto bene signorini ad indignarsi con i geffini? A voi i commenti! Grazie! Grazie!